Natalità, il bonus della regione che serve a poco per far ripartire la famiglia, fa letteralmente ridere. La regione siciliana informa che si possono presentare le richieste per il bonus nascita da 1000 euro, tra i requisiti un'ISE non superiore a 3000 euro, tenendo presente che alla determinazione di questo indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare e che le richieste vanno presentate direttamente al comune di residenza, osserva Salvo Sorbello, presidente dell'osservatorio civico di Siracusa. Queste misure tampone serviranno certamente a un certo numero di famiglie, ma è del tutto evidente come non sia ancora abbastanza per invertire il preoccupante trend negativo della denatalità. Mentre sono finalmente partiti in ritardo i pagamenti del bonus nido 2024, ci si rende conto che non si può davvero procedere ancora in attesa di qualche bonus, peraltro di modesto importo e non per tutte le famiglie. Per far ripartire la natalità, per vincere davvero una sfida che riguarda tutti e nessun escluso, non bastano certo i 1000 euro una tanto. Servono riforme fiscali serie e strutturali che sostengono davvero le famiglie, le politiche per la natalità. Per essere efficaci devono essere generose, strutturali e universali, altrimenti la denatalità continuerà a precipitare verso il basso causando gravissimi danni a tutto il sistema. E non ci si venga a dire che non si trovano le esorse, se lo Stato italiano decidesse di pagare 25.000 euro per ogni bebè ci vorrebbero 20 anni per spendere la stessa cifra dei bonus ristrutturazioni. Questi bonus servono quindi a poco, occorre invece applicare anche a livello comunale il qualsiente familiare approvato dal Consiglio Comunale di Siracusa è mai attuato. Le famiglie sono lasciate completamente da sole. Nella nostra regione gli asili nido sono garantiti solo al 13% dei bambini. In altri paesi europei l'avere figli è invece giustamente una questione collettiva. Le famiglie non devono arrangiarsi come meglio possono. Usciamo dalla logica dei bonus, dei regali episodici e sosteniamo le famiglie ogni giorno dell'anno a partire dalle nostre comunità locali.